Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Abella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Tele Nostra. Ha bruciato per 24 ore ininterrottamente la collina di Carrani a Monte Falcione e con essa la vecchia discarica comunale di rifiuti che si trova nell'area PIP. Solo verso le 3 della scorsa notte i caschi rossi alternatisi in maniera costante sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. Alcuni residenti della zona hanno dovuto far ricorso questa mattina alle cure dei medici dell'ospedale. I fumi inalati hanno provocato difficoltà respiratorie. In queste ore l'Agenzia Provinciale per la Protezione Ambientale ha avviato indagini su aria e suolo. Bisognerà capire che livelli di diossine sono stati sprigionati dal rogo e nel caso adottare provvedimenti. Stando tuttavia alle prime indiscrezioni che trapelano, la portata dell'incendio non è stata tale da destare particolari preoccupazioni. Per l'area della discarica sarà necessaria comunque una bonifica ed anche in questa direzione lavorano alacremente gli uffici dell'ARPAC. Non sembrano esserci più dubbi sulla natura dolosa del rogo. In assenza di vento il fuoco si è propagato con estrema rapidità. Si ipotizzano inneschi seriali di un presunto piromane. Dal bosco e dalle sterpaie il fuoco è passato a lambire case, aziende e depuratori. Fondamentale nello spegnimento è stato anche l'intervento di volontari della protezione civile. 24 ore dopo il peggio sembra passato.